Ciao a tutti, benvenuti su Frontiere Proibite e benvenuti da Roberto Lapaglia. Episodio speciale dedicato al mistero degli angeli. La figura dell'angelo ha sempre provocato nell'immaginario collettivo un senso di pace, di tranquillità, ma la sua storia è abbastanza complessa, misteriosa e la sua origine risale alla notte dei tempi. Si tratta di spiriti celesti, esseri di luce, creature aliene? Proveremo a seguire diverse ipotesi mettendoci sulle tracce di un mistero che sembra nascondere molti altri scenari in comune tra loro. Ci vediamo subito dopo la sigla. A tra poco. Ed eccoci nuovamente. Tutte qui, Frontiere Proibite, episodio speciale, il mistero degli angeli. Ma prima di iniziare un invito ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri commenti, se vi fa piacere i vostri like. Chi sono e come nacquero gli angeli? Secondo la religione cristiana si tratterebbe di esseri senza corpo, esseri inferiori a Dio ma superiore all'uomo, superiori sia per la loro natura che per il loro potere. Ovviamente il concetto dell'esistenza di creature superiore all'uomo era già presente nelle antichità e le sue origini si perdono addirittura nella notte dei tempi. Anche se la presenza degli angeli sembra una caratteristica delle religioni monoteiste, in realtà è possibile trovarne tracce anche in altre religioni e mitologie, sia pure conforme figure diverse da quelle che conosciamo. Si tratta spesso di figure soprannaturali, spiriti della natura, dell'aria e dell'acqua. In ogni caso le creature alate più antiche della storia da noi conosciute sono i geni della religione assiro-babilonese, ma anche le religioni indo-iraniche hanno i loro angeli. Nello Zenda Vesta, ad esempio, troviamo sei divinità conosciute con il nome di Amesha Spenta, gli immortali benefici che presiedono agli elementi positivi della natura. Esistono poi gli Iazzata, i Venerabili e le Fravasci, che hanno un ruolo simile a quello dei nostri angeli custodi. Nella storia, quindi, creature intermedie hanno da sempre viaggiato tra il cielo e la terra, portando messaggi ai mortali. E proprio questo concetto ha spesso fatto in modo che queste creature siano poi entrate a far parte del mondo dell'ufologia. Possiamo in ogni caso affermare, sia pure in linea generale, che la figura dell'angelo è una presenza esclusiva delle cosiddette religioni del libro, ovvero le religioni basate su un testo sacro che i fedeli ritengono rivelato, quindi la religione ebraica, quella cristiana, l'islamica o musulmana. Ovviamente le religioni del libro sono anche quelle rigorosamente monoteiste. Ma perché si è sentito il bisogno di inserire questa figura, la figura dell'angelo? Probabilmente perché l'immagine di un Dio supremo infinitamente distante dagli uomini necessitava di esseri intermedi tra il trascendente e l'umanità, al contrario delle religioni politeiste. Infatti nelle religioni politeiste sono i singoli dei che spesso appaiono e agiscono direttamente nei confronti dell'uomo. Tra le altre cose ricordiamo una particolare caratteristica degli dei, delle divinità, del paganesimo, del politeismo. Gli dei e gli uomini erano legati tra loro da un rapporto di sinergia. Quindi la divinità aveva bisogno dell'uomo, delle preghiere dell'uomo per trarre forza e allo stesso modo l'uomo aveva bisogno della divinità per affrontare il proprio quotidiano. In ogni caso la genesi della storia angelica rimane direttamente collegata alle religioni medio orientali. Da queste infatti parte il filo che collega la mitologia ariana, quella siro-babilonese, l'egiziana, l'iranica, quella greca, quella gnostica e la cultura ebraica, cristiana ed islamica. Nella città di Ur durante alcuni scavi fu rinvenuta una stele, raffigurante una creatura lata intenta a versare da un'anfora l'acqua di vita nel calice di un re sconosciuto. Nel vasto panteon delle divinità siro-babilonesi non è difficile trovare riferimenti agli angeli. I succali erano al servizio del dio Anu e fungevano da messaggeri con gli esseri umani, come d'altronde indica il loro nome che significa appunto messaggero. Sempre agli assiro-babilonesi va fatta risalire la definizione di due tra le più importanti schiere angeliche, quelle dei cherubini e dei serafini. D'altra parte, secondo la tradizione rabbinica, i nomi degli angeli nacquero a Babilonia e sicuramente l'angelologia ebraica trasse da questo contatto un notevole arricchimento. Altra testimonianza, questa volta anche anteriore alla stele di Ur, è costituita dai giganteschi grifoni alati, molto simili alle figure descritte nel libro dell'Esodo. Anche in Ezechiele è possibile trovare riferimenti a creature molto più antiche, in particolare nella descrizione dei quattro esseri visti dal profeta, una descrizione molto simile alle raffigurazioni dei caribu, i cherubini assiri. Situazione analoga nell'antico Egitto, dove è possibile trovare delle figure che ci riportano al tema degli angeli. La dea Bess, ad esempio, è caratterizzata dal fatto di possedere un corpo umano dotato di due paia d'ali. Da non dimenticare l'antica Grecia, con le figure di Ermes e di Iride, i messaggeri degli dèi, così come i Daimones, anime divinizzate di antenati che avevano la funzione di proteggere gli uomini e di mediare per loro con gli dèi. Anche l'Islam contempla l'esistenza degli angeli che nel Corano sono citati per ben 88 volte. Nella fattispecie si tratta di esseri celesti puri e perfetti, dotati di ali che vegliano sull'umanità annotando tutte le azioni degli uomini. Spostandoci poi in Oriente, la figura degli angeli trova ancora numerosi riscontri. Nella mitologia vedica e buddista, ad esempio, si tratta di spiriti benigni di natura angelica chiamati Deva. A loro è affidato il compito di tutelare luoghi e di custodire gli elementi dei regni minerale, vegetale e animale. Probabilmente si tratta degli stessi esseri celesti che ritroviamo in seguito in Occidente, soprattutto nelle tradizioni locali e che conosciamo con il nome fate, folletti, elfi, gnomi, ondine e altri nomi ancora. Ma gli angeli sono davvero tutti buoni come si intende oggi nel pensiero comune? La chiesa delle origini e i movimenti gnostici in particolare non erano dello stesso avviso. Anticamente si distingueva infatti tra angeli buoni e angeli cattivi, in particolare nel pensiero gnostico che recitava, poiché Dio è buono e il mondo materiale è malvagio, egli non può averlo creato. Di questo compito furono incaricati invece gli esseri celesti, ordinati in due gruppi di sei, gli angeli demiurghi. Nella cultura moderna, infine, gli angeli vengono sempre più accostati all'ipotesi extraterrestre. E se tutte queste figure e le loro antiche storie non fossero altro che i ricordi tramandati nel tempo di una unica verità, se non fossero altro che racconti rivisti e reinterpretati dalle varie culture, ma relativi ad un'unica grande storia. Rimane da stabilire quale. Voi cosa ne pensate? Attendo i vostri commenti, anche perché siamo giunti alla fine di questo nostro viaggio, di questo episodio speciale. Io vi ringrazio per essere stati con me. Attendo, come dicevo, i vostri commenti, quindi un invito ad iscrivervi al canale lasciando appunto i commenti, ma se vi fa piacere anche i vostri like. L'appuntamento è sempre per la settimana prossima con le classiche puntate, i nocturnal e altre sorprese in arrivo. Grazie per avermi fatto compagnia. Ciao a tutti. Grazie a tutti.